Salve a tutti amici tubers e bentornati dal vostro Gatorreggio Rosso94 Mi scuso subito se sentirete intorno a voce un pochino basso ma comunque per diversi impedimenti sto facendo questo video molto tardi e per non svegliare i miei vicini sono tra virgolette costretto a parlarvi in questo modo ma comunque faccio questo video per parlarvi della quasi ufficialità del nuovo direttore sportivo per la prossima stagione della Roma che sarà il DS attualmente del Sevilla Ramon Rodriguez Verdeio, scusate se lo leggo, detto anche Monchi un DS che ha fatto diciamo la storia di questo club perché ci ha giocato per diversi anni e poi pensate dal 99 fino a questo momento è stato il DS ufficiale quindi per ben 17 anni consecutivi 17 anni in cui il Sevilla ha ottenuto risultati veramente sorprendenti perché ha vinto due coppie di Spagna una supercoppa, una supercoppa europea quindi una di Lega e una europea e ben 5 Europa League, tre delle quali negli ultimi 4 anni, non mi vorrei sbagliare risultati veramente sorprendenti e sulle quali c'è sicuramente lo zampino di questo DS che non voglio esagerare solo perché è quasi ufficiale il suo arrivo ma che è uno dei DS migliori attualmente nel panorama europeo e secondo me anche mondiale e io con questo non voglio dire che con lui vinceremo sicuro lo scudetto perché io voglio vedere i fatti, cioè io voglio vedere un suo lavoro positivo con i miei occhi, però certo comunque l'ottimismo inizialmente c'è perché comunque prendiamo un DS che ha reso grande una squadra che inizialmente non era così forte diciamo che è chiamato anche lui il re delle plusvalenze è un pochino come Sabatini, soltanto che la differenza tra queste due DS è che uno ha vinto tanto e l'altro non ha vinto praticamente niente quindi sicuramente c'è un grande miglioramento sotto questo punto di vista perché questo DS nuovo, questo monkey abbina la sua bravura anche con la vittoria di molti trofei poi comunque ovvio in campo ci mani giocatori, comunque c'è l'allenatore non è solo il DS che decide le sorti di una squadra però comunque sicuramente un buon lavoro fatto da un buon DS influisce sul mercato e quindi sulle strategie della squadra e quindi di conseguenza del proprio allenatore vi leggo soltanto alcuni dei tanti giocatori fortissimi che sono passati per la maglia del Siviglia sia dalla cantera e sia presi per pochi soldi e poi rimeduti per tanti milioni per farvi capire come è stato ottimo il lavoro di monkey fino a questo momento allora ha fatto salire dalla cantera Reyes, Sergio Ramos, non uno qualsiasi Diego Capello, Jesus Navas e Alberto Moreno questo sono soltanto alcuni dei giocatori che sono diventati forti partendo dalla cantera quindi addirittura senza averci speso neanche un centesimo per vederli con la propria maglia ma facciamo un attimo un elenco delle plusvalenze che è riuscito a fare questo grandissimo DS Daniel Alves preso a 300.000 euro e venduto a 40 milioni al Barcellona Luis Fabiano, adesso non vi dico le cifre però quello di Daniel Alves è il caso più eclatante però Luis Fabiano rivenduto al doppio di quanto acquistato Julio Baptista al Real Madrid, Real Madrid che come tutti sappiamo spende sempre tanti soldi per i propri giocatori Federico Fazio, il nostro difensore Fazio che è stato rivenduto anche lui per una grande cifra al Tottenham Alvaro Negredo che il City ha preso spendendo una barca dei soldi per un totale di quasi 200 milioni guadagnati dalle cessioni di questi giocatori non nel mercato generale, praticamente se noi mettiamo le spese fatte per questi giocatori e vicino i ricavi c'è un più, c'è una maggioranza di 200 milioni per farvi capire che comunque il suo lavoro è sempre stato eccellente e tu puoi dire, eh sì però anche Sabatini è bravo a prendere i giocatori a poco e a rivenderli a una grande cifra quello sì, però come ho detto inizialmente Monkey non fa le cose per caso non è che vende a casaccio appena un'offerta buona ma comunque valorizza i propri acquisti e non li cede se non per rinforzare ulteriormente la propria squadra e lo ha dimostrato infatti il ruolino di marcia che ha ottenuto questa squadra spagnola negli ultimi anni vincere tre Europa League negli ultimi cinque anni è una cosa secondo me veramente clamorosa e lo ripeto, non è certo tutto merito del DS ma se la squadra è riuscita a trovare una buona amalgama sia dal punto di vista qualitativo, tecnico e diciamo in generale tutti quanti i punti di vista il merito è anche il suo quindi sono estremamente soddisfatto perché facciamo un grande passo in avanti per migliorare tutta la squadra stiamo migliorando dal punto di vista dello stadio, dal punto di vista del DS anche comunque come Rosa negli ultimi anni siamo sicuramente migliorati quindi sono contento sotto questo punto di vista certo ancora i trofei mancano e quella diciamo è la mancanza principale che colpisce diciamo le nostre stagioni perché noi facciamo tanto bene però alla fine i trofei rimangono sempre zero però guardando comunque il bicchiere mezzo pieno sono contento perché ci stiamo muovendo per rendere questa squadra solida sotto tanti punti di vista e non solo dal punto di vista della squadra, dal punto di vista tecnico perché comunque al punto di vista del marketing e lo stadio e il DS, uno dei DS migliori in Europa e nel mondo comunque queste sono scelte che sicuramente fanno ben sperare per un futuro rosio per la nostra amata Roma quindi sono veramente contento e speriamo che possa fare da noi un eccellente lavoro che magari possa portare come ho portato a Sevilla tanti e tanti trofei sono veramente molto fiducioso ma comunque staremo a vedere fatemi sapere nei commenti qual è stata la vostra opinione quando avete saputo della quasi ufficialità io dico quasi anche se comunque dovrebbero firmare praticamente oggi praticamente tra qualche ora dopo l'uscita di questo video però comunque fatemi sapere se vi piace questo arrivo se preferivate qualcun altro se preferivate che fosse rimasto Sabatini tutto quello che volete fatemi sapere qua sotto nei commenti ci vediamo tra circa 3-4 ore per il primo video di una serie di video che ho fatto diciamo speciali insieme ai miei amici non vi anticipo altro perché lo vedrete dalle 6 in poi sul mio canale un saluto e sempre Forza Roma ciao ragazzi grazie 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 grazie